buongiorno a tutti voi in giappone c'è questo distributore di wagyu di sendai che mi stuzzica da una cifra guardate soprattutto questo hamburger di sendai gyu 300 yen 100 grammi ne pio un paio per stasera e vediamo un po com'è uno questo è l'hamburger della coppetta gelato dopo a casa lo prepariamo e vediamo un po com'è scongelato vediamo un attimo com'è dentro si sta accogendo l'hamburgerino bello bello e anche super super spesso un po di tempo ma sembra niente male e ora questo è l'hamburgerino venuto bell'hamburgerino assaggiamolo assaggiamo un pezzettino bello succoso oh mega male l'hamburgerino del distributore afrope grazie a tutti